Ciao, sono Cristiano di Viaggiovero.com e con questa registrazione vado ad iniziare una serie di video che ti sveleranno come interagire nel modo migliore con il sito di Viaggiovero.com Nell'ultimo anno siamo cresciuti molto come sito, è cambiato radicalmente e le applicazioni implementate sono state tantissime alcune sono state abbandonate per malfunzionamenti o per poca utilità altre sono state implementate definitivamente e scelte per l'interazione con te che fai parte dei lettori e o sei iscritto al nostro sito con il video di oggi andremo a vedere come si può interagire con la barra di Wibia che cos'è la barra di Wibia? è questa barra che vedi qui sotto è la barra che trovi nella parte bassa del tuo schermo della pagina una volta che sei collegato a Viaggiovero.com e che ti segue se tu scorri la pagina verso il basso cioè in pratica rimane sempre nella parte bassa quasi in trasparenza questa barra è quello che secondo me è l'applicazione più web 2.0 che possa esistere per un blog andiamo a vedere che cosa possiamo fare con che cosa puoi fare con questa applicazione per prima cosa puoi effettuare ricerche puoi effettuare ricerche scegliendo se effettuare ricerche sul blog di Viaggiovero quindi se vuoi ricercare ad esempio articoli oppure direttamente su Google con l'icona del mondo che trovi qui di fianco è l'icona di default per cercare sul blog di Viaggiovero se tu clicchi sul triangolino vedrai che ti si apre la possibilità di scegliere cerca nel blog oppure cerca con Google di default se tu nella casella cerca inserisci parole chiave ad esempio Svizzera o Berlino e poi clicchi su l'icona a forma di lente di ingrandimento andrai a ricercare gli articoli viceversa se tu hai come installata la G di Google cioè come motore di ricerca Google andrai a fare una ricerca direttamente tramite Viaggiovero su Google comunque di default si cerca sul blog il campo di fianco sono i post recenti cliccandoci ti verrà aperta una finestra con tutti i post gli ultimi 7, 8, 9, 10 post pubblicati in ordine temporale su Viaggiovero.com ti basterà poi cliccare sul titolo e verrai portato direttamente all'articolo il tasto casuale come potrai immaginare cliccando lo verrai portato ad un post casuale ad un articolo casuale su Viaggiovero.com poi si passa dall'altra parte della barra abbiamo l'iscrizione al Feed RSS di Viaggiovero.com per rimanere sempre aggiornati in pratica all'interno del tuo lettore di Feed RSS riceverai giornalmente i nuovi articoli di Viaggiovero.com con il tasto più condividi puoi condividere il post che stai leggendo l'articolo che stai leggendo sui maggiori social network e social book marketing presenti in rete puoi mandarlo anche via email puoi condividerlo ad esempio su Facebook o Twitter e ti invito a farlo se trovi che l'articolo sia molto interessante poi poco a fianco troviamo la fanpage di Viaggiovero cliccando sul tasto viene aperta la pagina di Viaggiovero su Facebook e quindi puoi diventare fan con il tasto become a fan che non vuol dire altro che diventa fan qui sul lato sinistro vedi per ora i 263 iscritti come fan alla pagina di Viaggiovero e sulla parte destra tutti gli ultimi articoli e o aggiornamenti realizzati sulla pagina di Viaggiovero.com comunque per diventare fan o vai su Viaggiovero o vai su Facebook e ricerchi la pagina oppure lo fai direttamente dal blog cliccando su become a fan dopo che hai aperto la fanpage sulla barra di Wibia stessa cosa ancora Facebook comunità in pratica puoi connetterti a Viaggiovero.com direttamente con le tue credenziali Facebook in questo modo potrai commentare potrai interagire con il blog di Viaggiovero con gli stessi username e password che utilizzi per entrare a Facebook il sito di Viaggiovero non c'entra in questo quindi io non vedrò mai la tua username e la tua password ma rimarranno a Facebook e tramite questo tasto connect with Facebook ti si aprirà un'altra pagina in cui potrai inserire la tua email e la password come ho detto prima di Facebook e come vedi sei sul sito di Facebook e poi potrai tranquillamente commentare senza commentare gli articoli dove verrà inserita anche la tua foto che hai su Facebook senza dover inserire altri dati quindi molto semplice in più potrai vedere tante altre cose come il numero di membri gli amici oppure le scorciatoie della community un altro social network Twitter il pannello di controllo puoi condividere gli articoli di Viaggiovero con il tuo Twitter se sei iscritto con la tua piattaforma di micro blogging anche qui io si entra con username e password del social book marketing Twitter e viaggiovero.com non vedrà mai nessuna né username né password del tuo account e poco di fianco hai le ultime notifiche cliccando ti si apre una finestrella modello pop up in cui l'amministratore cioè io vado a inserire di volta in volta alcune notifiche che aggiornano lo stato o le cose interessanti di quel momento con l'ultimo link quello in fondo praticamente le due freccette in basso chiudi la barra di Wibia rimane comunque visibile questa linguetta con scritto tools basterà ricliccare sulle due frecce questa volta con il verso in alto e ti si riaprirà nuovamente la barra di Wibia con questo è tutto per questo video abbiamo visto come funziona la barra di Wibia che trovi nella parte bassa del blog di Viaggio Vero e come avrai capito è una barra con cui potrai puoi e potrai interagire anche con i maggiori social network esistenti oggi in Italia e nel mondo quindi ti invito a farlo sia per commentare gli articoli sia per condividerli sia per creare una comunità coesa e forte attorno a viaggiovero.com per ora ti saluto ci sentiamo nel prossimo video in cui analizzeremo le metodologie di ricerca degli articoli su viaggiovero.com e tante altre cose ciao ciao